Qual è la mia conoscenza in ambito di ricerca scientifica? Sono Fausto Inclimona, sono un fisioterapista. Vengo da Ragusa e sono qua per approfondire le mie conoscenze in ambito di ricerca scientifica per quanto riguarda proprio la capacità di lettura delle ricerche e capacità di saper interpretare quello che ci viene esposto da queste ricerche e capire se è effettivamente qualcosa che si può applicare poi sulla realtà di tutti i giorni sui nostri pazienti o no. La mia aspettativa era quello che si è realizzato in questo corso cioè di riuscire a entrare nel ragionamento che ci sta dietro alla creazione di un trial clinico di una ricerca scientifica e da lì riuscire anche a quel punto ad avere l'ottica della persona che poi la legge, la sa leggere, sa capire ciò che è utile e ciò che non è utile per il paziente. Qua mi sono stati dati tutti gli strumenti per capirlo. Tutti i dati essenziali, proprio numeri requisiti che debbono essere presenti in un trial che magari prima venivano presi così come se una volta ci sono, una volta non ci sono ora sappiamo per certo che alcuni ci devono essere per forza se non ci sono viene scartato e basta. Questa è la cosa che mi ha impressionato di più perché già questo mi esclude a priori tantissime ricerche che magari promettono cose sconvolgenti in realtà sfruttano dei dati che in realtà non sono così importanti, così rilevanti, diciamo. Mi viene da dire Gimbe è cura del paziente, così. Non lo so perché, è venuto questo. Anche se in realtà è qualcosa di diverso, però come obiettivo ci dà questo, quindi mi viene da dire questo. Grazie a tutti.